Ben ritrovati da Simone Nardone, un appuntamento con l'informazione locale di Radio Civita in blu in questo venerdì 17 gennaio. In primo piano sono iniziate ieri mattina le operazioni di recupero e spostamento delle mini anticarro ritrovate nei giorni scorsi da un sub sportivo nello specchio d'acqua davanti al litorale di Sperlonga. Lo spostamento è avvenuto a moto lento da parte della guardia costiera di Gaeta per poter portare le mine in luoghi dove il fondale è di circa 30 metri per farle brillare. Va ricordato che gli esplosivi ben 15 sono di tipo tedesco risalenti alla seconda guerra mondiale. Insulti e scritte sui muri omofobe a forme al tribunale di Cassino fa scattare il divieto di avvicinamento alle vittime ad una distanza non inferiore di 100 metri. Nei confronti dei coniugi un 65enne e una 61enne queste le risultanti rese note dei carabinieri di Formia che hanno dato esecuzione all'ordinanza del tribunale che prova a seguito delle indagini a chiudere il cerchio alle vessazioni in minacce che hanno avuto anche notevole clamore nei mesi scorsi proprio a Formia. Bonificata Itri, un'area già sequestrata dove lo scorso turno era stato scoperto dagli uomini della municipale proprio di Itri essere stati sversati rifiuti speciali. L'operazione di bonifica, spiegato il comandante della polizia locale pugliese, è stata eseguita su autorizzazione del pubblico ministero titolare dell'indagine e a danno del responsabile dello sversamento. Lunedì 20 gennaio alle ore 19 si terrà presso la sala Ribot del comune di Formia l'assemblea popolare indetta dal comitato delle varie associazioni per discutere del problema della torbidità dell'acqua del sud pontino e degli esiti del tavolo tecnico operativo tenutosi a Latina tra il prefetto e di vari sindaci. Sono stati invitati a partecipare tutti i primi cittadini del sud pontino e dovrebbe intervenire anche il garante della regione Lazio. Un solenne patto di amicizia per rinnovare e consolidare i rapporti tra Sabbioneta e Fondi è stato siglato venerdì 10 gennaio nella sala consigliare del municipio di Sabbioneta dal sindaco Marco Pasquali e dal vice sindaco e assessore alla cultura di Fondi Beniamino Maschietto. è stato ribadito dai rappresentanti istituzionali che si tratta di un punto di partenza per nuovi rapporti sia istituzionali che economici tra i due comuni legati dal filo storico dei Gonzaga. Andiamo adesso agli appuntamenti. In particolar modo l'agenda diocesana, formazione e spiritualità, il colle con il professor Pandozzi Nazareno. Primo weekend biblico del 2020, inizia quest'oggi e finisce il 19 gennaio, storie minime della Bibbia, le donne di Dio. Questo è il titolo, appuntamenti sia il 17 che il 18 gennaio, quindi oggi e domani, alle ore 18.45. Il 19 gennaio invece appuntamento alle 10.45 con condivisione fraterna. Si ricorda che la partecipazione è libera e gratuita. Andiamo invece agli appuntamenti radiofonici che in parte riguardano anche quelli dell'agenda diocesana. Domani e dopo domani saremo in diretta dal Coni di Formia con Radio Civite in Blu per l'Assemblea diocesana dell'Azione Cattolica. Sabato pomeriggio vivremo il momento di relazioni e interventi dalle 15.30 alle 18.30. Domenica mattina la celebrazione della Santa Messa presieduta alle 12 dal Vescovo di Gaeta Luigi Vari. Altro appuntamento radiofonico torna questa sera alla campanella, format anche di Radio Civite in Blu, puntata numero 89. Sarà ospite Sonia Annunziata, ideatrice del progetto Il Mondo che Vorrei. Chiudiamo con lo sport e la palla a mano. Arrivati due nuovi stranieri nelle fila dell'Amfood Carborex Gaeta e dell'HC Banca Popolare Fondi e le due squadre del Sud Pontino che militano nel campionato di A1 di Handball. I biancorossi del Golfo hanno ingaggiato un altro argentino dopo la partenza di Goulam. Arriva l'ala destra Gian Valentino Rossetto, il rosso-blu della Piana invece Nicola Lazic. Il Gaeta domani scende in campo per la ripresa del campionato dopo le feste andando a Trieste. Il Fondi sempre fuori casa, va a Sassari. Noi siamo in chiusura del nostro appuntamento con informazione locale. Vi ricordiamo come sempre che potete scriverci su WhatsApp al 348 888 1447 o se preferite a Radio Civita in Blu chioccio a gmail.com Vi ricordiamo come sempre di visitare il nostro sito web radiocivitainblu.it Un saluto da Simone Nardone e un buon proseguimento di ascolto su Radio Civita in Blu.